Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube, altro appuntamento con la review gameplay dei TOTS Serie A e dopo aver visto reparto difensivo e offensivo, oggi sposiamo la linea mediana del campo. Difatti, andiamo a parlare di Kessy, Depol e Dinsignia, quindi un giocatore ibrido, infatti un esterno, possiamo valutarlo un po' a cavallo. Vi devo dire la verità, mi aspettavo leggermente di più da qualcuno, leggermente di meno da altri, ma in realtà si sono andati a ribaltare completamente le gerarchie e i ruoli. Quindi, passiamo subito alla schermata di gioco, facciamo un rapido recap statistico, ci scambiamo due chiacchiere e poi andiamo a vedere in realtà quelle che sono le clip registrate durante il test di questi giocatori. Quindi, primo giocatore che andiamo a analizzare oggi è proprio Rodrigo Depol. Depol, guardandolo così, diciamo che è un giocatore che sembra fare tutto e niente, nel senso che è 1,78m, è alto-basso per quanto riguarda il workrate e ha 4 di mosse skill e 3 di piede debole. Quindi, un giocatore che da esterno magari potrebbe dar fastidio, perché quel 3 piede debole potrebbe farsi sentire e non ha neanche la quinta skill, è un giocatore che in fase difensiva magari da Cicc in un 4-4-2 potrebbe dar fastidio vista la poca difesa, però parliamo di un giocatore che secondo me il rapporto qualità-prezzo in realtà è molto molto buono. Vi dico, io l'ho provato sia da Cicc in un 4-4-2 che da mezz'ala all'interno di un rombo e devo dire mi ha convinto in entrambi i moduli. Perché? Andando a vedere, effettivamente si sente parecchio il fatto che è un giocatore molto rapido, molto agile e molto scattante. Ho veramente amato i suoi passaggi, soprattutto i filtranti a campo aperto, spesso indovinava delle parabole ad esterno a girare i difensori avversari per mandare i nostri attaccanti in porta. Si attacca molto bene all'uomo, è molto molto aggressivo sotto questo punto di vista, inoltre mi è piaciuto tanto il fatto che nonostante quelle pochissime stats difensive, infatti molto povere sotto questo punto di vista, spesso e volentieri si trovasse al posto giusto nel momento giusto andando anche a fare degli ottimi recuperi automatici o comunque permettendomi di switchare al momento giusto e intervenire per recuperare il pallone. Inoltre l'ho giocato libero, quindi avevo attacco equilibrato senza farlo rimanere dietro e si proponeva bene molto molto anche lì in avanti e questo mi è piaciuto tanto perché, visto che tiene un ottimo controllo palla, è possibile fare i micromovimenti al limite dell'aria per invucare poi gli attaccanti. Quindi De Paul devo dire che soprattutto considerando il prezzo io mi sento di dargli un bellissimo 8,5 perché mi ha davvero stupito, non pensavo che potesse rendere così bene questa carta. Il buon Rodrighello De Paul. Altro giocatore è Lorenzo Insigne. Lorenzo Insigne, 1,63 di giocatorino, alto normale work rate, 4 di skill e 4 di piede debole. Anche in questo caso, diciamo che è un giocatore che secondo me deve essere utilizzato prettamente da esterno perché da seconda punta potrebbe risentire un po' di alcune situazioni e si sente la mancanza della quinta skill sotto questo punto di vista. Parliamo di un giocatore che costa anche discretamente tanto, visto che si aggira più o meno sui 500k, 4 alti e probabilmente ha un prezzo un po' gonfiato, credo che si andrasse stare un po' più basso e risente tanto di quella che è la carenza di esterni all'interno della serie A. Ad esempio, io gli preferisco magari un Esharawi Flashback perché quel 5 di skill è troppo più importante. Tuttavia, a parte che non vedo ora dei meme e infatti state pronti per dopo le clip perché ve ne ho cercato di costruire un ad hoc e ci ho fatta. Onestamente non l'ho trovato così rapido, mi è sembrato un po' più lento effettivamente di quel parametro che la carta ci mostra non ho amato il suo speed boost, però davanti la porta devo dire che si è dimostrato abbastanza abile a finalizzare anche se un paio di volte è capitato qualche errorino soprattutto sul piede debole ha degli ottimi passaggi, palla al piede è molto molto agile, con il tunnel direzionale si speed boost in maniera discreta voto quindi a questo Insigne un 7 e più, soprattutto in rapporto a quello che è appunto il suo prezzo. Se avete secondo me Esharawi Flashback io non lo andrei a prendere, onestamente l'ho lo Insigne. A chiudere abbiamo Frank Chessy. Chessy è un giocatore che veramente mi aveva hypato tantissimo, avevo tantissime aspettative su di lui, così come avevo tante aspettative magari su un Goretzka eccetera eccetera negli scorsi video e parliamo di una carta di 1,83 m dal work rate alto-alto con 3 di moste skill e 4 di piede debole. Anche in questo caso già mi scatta il primo campanellino d'allarme perché poter fare un tacco-tacco o una crocchetta a centrocampo è molto importante, quindi quel 3 di moste skill un po' mi fa arrabbiare. È un giocatore che costa sicuramente tanto, è sicuramente destinato a scendere e a sessarsi più o meno su 5-600 è il suo prezzo perché adesso è un po' gonfiato. Devo dire che però è un giocatore che mi è piaciuto perché è sempre al posto giusto, intercetta bene le linee di passaggio, fa tanti interventi automatici, è fisico, 99 di forza e 99 di aggressività, raga questo si incollava agli avversari, li spostava e recuperava il pallone e poi grazie anche al suo 82 di agilità è rapido a muovere quelli che sono i micromovimenti dell'avversario, quindi tanta roba. Abilissimo in fase di impostazione, non è proprio sua agilità palla al piede ma per esempio è molto più agile di un Marco Siorente dopo averli testati e devo dire che il buon che si merita secondo me di trovare spazio all'interno delle nostre squadre soprattutto se avete una serie A, se devo fare un paragone comunque lo piazzerei dietro ai vari Bruno, De Jong eccetera eccetera quelli che sono diciamo un po' più meta attualmente, però un bel 8 anche a Fran che si mi sento di darglielo. Quindi dopo aver fatto il solito recapino passiamo a vedere quelle che sono le clip registrate partendo proprio da Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul che come potete vedere in questa posizione si ritrova a ridosso dell'area rigore avversaria dopo una sortita offensiva. Guardate come va immediatamente a recuperare la posizione mentre io controllo Lautaro ad avvicinarsi all'avversario Renato Sanchez e fare questo allungo automatico per cercare di recuperare il pallone cosa che poi effettivamente avviene con De Paul che rilancia anche l'azione dei suoi. Ancora una volta guardate io con Romero mentre sto difendendo, sto scildando i movimenti del Ronaldo avversario Ronaldo va a fare questo passaggio che viene prontamente intercettato ancora una volta in maniera automatica da De Paul che si attiva, si risveglia e va a chiudere e poi rilancia l'azione grazie ai suoi ottimi passaggi. Qui un'altra ottima chiusura ancora una volta di De Paul mentre stavo andando a controllare che sì guardate come lui va a intervenire praticamente in maniera automatica. Vedete in questo momento io ho che sì, dopo due secondi De Paul ha recuperato il pallone. Qui invece andiamo ad analizzare palla al piede vedete sfruttando la sua agilità, con il suo speed boost riesce a portare a spasso la difesa avversaria, vedete come controlla bene il pallone e muove la difesa avversaria. Qui guardate come si attacca addirittura bene all'uomo, supera anche poi un blocco cestistico del nostro numero due e va a recuperare la palla al novantesimo per sigillare il match. Ancora una volta io perdo palla con Chessy, non ho proprio fisicamente il tempo di andare a prendere De Paul ma De Paul è già pronto lì a ricevere questo passaggio in maniera automatica. Qui ancora una volta invece lo vediamo anche in una sortita offensiva, guardate come controlla benissimo il pallone, guardate il tunnel direzionale, ovviamente riesce anche a vincere il rimpallo in questo caso, quindi abilissimo in questa meccanica e poi a finalizzare. Quindi veramente mi è piaciuto questo De Paul come potete vedere e come vi ho detto. Passiamo invece all'Holo Insigne, partiamo subito con il suo speed boost che vedete non è dei più esplosivi alle volte, diciamo che va un po' a singhiozzo, non è così costante. Qui la clip meme, un tiro a giro! Raga non avete idea, non ci ho messo neanche troppo tempo, è tra l'altro di sinistro. Vedete come si muove bene qui con il pallone, questo tiro a giro all'incrocio di Insigne che onestamente non potevano ammettervi, quindi tiro a giro che effettivamente ce l'ha, l'ho provato anche col destro, figuratevi col piede debole che ha 4 se le mette così. Qui invece passiamo ancora una volta a questa giocata all'interno dell'area di regore servito da Muriel sfruttando ancora una volta il diagonale nonostante fosse sul piede debole, ovvero il sinistro, abilissimo a finalizzare. Quindi vedete che questo 4 stelle di piede debole è molto solido dopo già aver visto quel bellissimo goal realizzato con il mancino aprendo il plattone a giro. Ancora una volta invece passiamo a che sì, che sì che, guardate, qui sto andando a controllare da low, va a piazzarsi in maniera automatica a recuperare questo pallone, tra l'altro questa clip è molto divertente perché stavo segnando un minutaggio per tagliare una clip, quindi veramente non stavo facendo niente, avevo il pad fermo, infatti vedete che da low è totalmente immobile. Si switcha in automatico che sì e va a recuperare pallone, quindi più intervento automatico di così, veramente non so che dirvi. Rilancia anche l'azione in maniera molto abile, qui guardate mentre sto controllando Muriel che sì che si va a fare questa bella corsetta all'indietro per recuperare la posizione e intervenire ancora una volta alla grandissima. Qui al minuto 8 ancora una volta una corsa all'indietro totalmente automatica mentre io stavo controllando quadrato che gli permette di recuperare il pallone. quindi tutta una serie di componenti che secondo me hanno reso questi giocatori molto interessanti, in particolare ovviamente vi ripeto Depolle che sì, insigne un po' più borderline in vista del suo rapporto qualità prezzo. Fatemi sapere voi che ne pensate nei commenti come al solito ragazzi, in descrizione trovate tutte le info sulle live giornaliere sulla piattaforma viola, un saluto e un abbraccio al vostro Liberoschi, statemi bene, ciao!